Da circa un anno e mezzo la società che rappresento ha acquisito questa nuova tecnologia, cioè un monitor che viene definito autostereoscopico. Cosa significa? Significa che permette di visualizzare dei contenuti tridimensionali percependo la profondità e la fuoriuscita degli oggetti che vengono rappresentati attraverso questa tecnologia. In questo congresso abbiamo presentato una serie di immagini che abbiamo ottenuto grazie ad una collaborazione col dottor Marchisio, che fa parte dell'equipe del professor Gandini dell'Università di Torino, dell'ospedale Le Molinette, traducendo quelle che sono delle immagini radiologiche, che sono immagini che hanno un contenuto tridimensionale di per sé, traducendole per questa tecnologia che consente appunto di percepire la profondità senza bisogno di utilizzare gli occhialini.